Domani sera alcune sigle sindacali rappresentative di questo comparto, di questo mondo, di questo variegato e importante mondo manifesteranno con una fiaccolata fuori da Montecitorio. E diventa quella l'occasione, perché le forze dell'ordine, nelle varie sfaccettature, evidenzieranno al Governo necessità e bisogni. E noi a quella manifestazione, come gruppo della Lega, parteciperemo, daremo il nostro contributo, daremo la nostra presenza, porteremo il nostro contributo di idee e di proposte. Perché, ripeto, in tutti questi anni il comparto sicurezza, e Dio sa quanto bisogno di sicurezza ha il nostro Paese, ringraziando ovviamente le forze dell'ordine e i vigili del fuoco per quello che fanno, per quello che hanno fatto e per quello che continueranno a fare nelle situazioni e nelle condizioni di disagio, il problema non può essere esaurito unicamente al tema del rinnovo contrattuale.